Zelda, il duca Onkled è sotto attacco dalle forze malvagie di Ganon. Vado a Gamelon per aiutarlo. Ma papà, e se ti succede qualcosa? Prenderò la Triforce del coraggio per proteggermi. Se non hai mie notizie entro un mese, manda Link! Elba! Non preoccuparti Zelda, la Triforce della saggezza promette che il re tornerà sano e salvo. Basta, la mia nave parte domattina. Mi chiedo cosa ci sarà per cena. Oh ragazzo, ho una fame da lupi! Potrei mangiare un Octorock! È passato un mese intero e ancora nessuna notizia. Sono certo che stia bene. Sì, quel vecchio Ganon non è un avversario per il re! Link, vai a Gamelon e trova mio padre! Fantastico! Non vedo l'ora di bombardare qualche Dodongo! Sveglia, Impa! Andiamo a Gamelon! Va bene! Cara, prenderò la Triforza della saggezza! Certo che sono dalla tua parte, ma devo comunque vendere la roba. Scegli semplicemente ciò che vuoi. Gestirò i rubini. Mi dispiace Zelda, non abbastanza rubini. Dovrai abbattere qualche gorilla in più per ottenerlo. Tutti sono scappati quando è arrivato il Gleoc, ma i mostri sanno bene di non darmi fastidio. Ecco un sudario che spaventa il rotolo di Ghibdo. Ciao, cara! Oh, solo un minuto! Non è bello! Porta un po' di polvere di fata e ti farò un mantello magico! Non avresti mangiato tutto! Albicocchi! Pasa! Bel salto sulla fossa di goma! Ecco, bevi un po'! Grazie! Ehi, c'è un pescatore intrappolato nella testa del pesce! Davvero? Grazie! Mi hai salvato! Questa è l'ultima volta che vado a pescare! Ci vediamo a Cicado! Guarda! Ho trovato un nuovo lavoro! Ehi! Porta un cristallo di calore! Sistemerò la tua spada! Perché i morti risorceranno e i vivi saranno i loro schiavi! Deve essere fermato! Questa strada! No! Fa freddo! Questo farà una grande frittata! Ecco! Non sei forse un po' troppo debole per andare contro Ganon? Farò bene! Questo è lo spirito! Per favore! Impegnati un po'! Spora! Se vuoi un po' più di divertimento! Sei tornato! I tuoi guanti! I tuoi guanti! Dammi tutti! Oh! Che schifo! Un power glove! Fantastico! Abbiamo congelato la fonte della vita! È stato fantastico! È stato fantastico! È stato fantastico! Lo vengo per tutta la mia vita! Oh, bene! Ora puoi avvicinarti di soppiatto e dargli un bel colpo prima che ti veda! Salve, principessa Zelda! Hai qualche opera d'arte più me? Sì! Bene! Allora facciamo un mantello dal tuo sudario! Ora devo andare! Oh mio! Sembra che tutti siano stati portati alla torre di Taikogi! Sai che questo è illegale! I miei dolci si bruceranno! Dai! Sbrigati! È terribile! Il sindaco Cravendish è stato incatenato nella torre! Oh, le mie torte! Vieni a trovarmi acciccato! Osi sfidarmi! Morirai! Riprova Iron Knuckle! Fare in fretta! Papà, andiamocene da qui! Uh, l'indegnità! Per favore, vostra altezza, potreste gentilmente tagliare le catene che mi legano? Non è ex... Grazie, principessi! Sono riuscito a nascondere questa lanterna magica! Spero possa essere utile! Il tuo amico Link potrebbe mangiarne dieci! Eh, almeno... L'ARP pagherà per questo! Lo sono! Vediamo! Questo dovrebbe andare bene! Funziona abbastanza bene! Vedi qualcosa? Sì! Oh mio... Ciao! Tuo padre è stato catturato! E Link ha avuto un terribile combattimento! Non posso dire cosa sia successo! Cara... Wizzrobe ha catturato Lady Alma! Non ho paura di te! Ah! Allora, perché non posso dirtelo? Ssssssss... Non l'incantesimo di disintegrazione! Sì! Sì! Link mi ha parlato di te! Conosci Link? Certo! Mi ha dato la sua borraccia per un bacio! L'hai baciato? Ecco! È vuota comunque! Guarda come è stato catturato tuo padre! Sei il mio prigioniero! Ehi! Silenzio! Hectan! Tieni il moccioso in catene! Sì, maestro! Accidenti! Dieci è pericoloso! Pronto! Sono qui o qui? Ok! Avanti! Mi hai ucciso! Bene! Il duca Uncled ha tradito il re! Lo so! Colpisci la testa del ritratto per... Alla camera di Ancliffe! Grazie! Non farmi del male, Zelda! Ti dirò il passaggio segreto per entrare nel palazzo di Risong! Vesti meglio a parlare in fretta! Vai tutto a sinistra e sposta la roccia! Questa chiave apre il cancello! Farò in modo che non scappi! Questa luce penetrerà l'oscurità intorno a Ganon! Per perdere peso! Oh, caro! Amphak sta sorvegliando il santuario! Qualunque cosa veda io! È troppo! Difficile da vedere, Ganon! Ma la Triforce dice che puoi vincere solo cadendo! Mi chiedo cosa significhi! Osi portare luce nella mia tana? Devi morire! Le catenne! Non hai ancora visto il peggio di me! Grazie per aver guardato! Mia madre! Mi hai salvato! Ecco il traditore! Maestà! Per favore, tua onnipotenza! Abbi pietà! Credo che avrai pulito tutti i pavimenti di Hyrule! Allora, potremo parlare di misericordia! Portatelo via! Sì, mio signore! Chissà cosa sia successo a Link! Comunque, era un cinghiale! Smettila di guardarti! Cos'è successo? Niente, Link! Stavamo per fare una festa! Grande!